Entra nel comune di Avellino, sale al secondo piano, nei corridoi del settore politiche sociali si cosparge di alcol e si dà fuoco. Solo un intervento tempestivo di un dipendente comunale evita il peggio e Ugo Bianco, 67 anni, se la cava con qualche scottatura alla spalla e al collo, ora ricoverato al Moscati. Dietro i momenti concitati vissuti a Palazzo di Città dalle 10 di questa mattina, la disperazione di una famiglia, la disperazione dei genitori di Sabrina Bianco, 12 anni. Ugo e Carmela Paone sono senza lavoro, senza bonus libri per mandare la figlia a scuola e fino a qualche settimana fa senza caldaia nella loro casa di Rione Parco, montata solo grazie all'intervento di un privato che ha voluto restare anonimo. Questa mattina il gesto sconsiderato del padre di Sabrina, che poteva avere esiti ben più tragici. Un po' di scottatura. E i libri ancora da me. Ci ha promesso che ci dava i libri. Adesso, ma che c'erano? Questi minuti mi mandano a destra, mi mandano a sinistra, e non c'erano mai. Stamattina ci ha spettato, ci aveva appunto a me e non c'erano. Dici, signora, ma siete ex detenuti? No. Siete ragazza amata? No. Siete ex detenuti? No. E noi vi possiamo aiutare. Allora, che devo fare? Oggi poi mi devo andare a truccare pure io. Io non dico chissà che va con te, ma io voglio un lavoro per mia figlia, per andare a vivere mia figlia. Da domani in poi prendo la bambina e mi metto al comune di Avellino, perché devono vedere quello che devono fare con mia figlia. Io non posso mettere nemmeno il piatto sulla tavola di mia figlia. Fin qui la loro disperazione, poi le precisazioni del comune di Avellino per bocca, del vice sindaco e assessore alle politiche sociali, Stefano Laverde, che ripropone anche l'allarme sicurezza all'interno di Palazzo di Città. L'SOS Famiglia è stato pagato regolarmente. Per quanto riguarda la caldaia di cui dice, visto che il signore asseriva di aver avuto la caldaia con altri mezzi, noi avevamo detto al signore portaci una regolare ricevuta che ti sarà rimborsato. Nella vicenda attuale si tratta di un buono libro di circa 200-220 euro. La determina è stata fatta, determina a 1099 del 10 aprile 2015. Dopodiché questa determina, passa alla banca, la banca dopo ha i suoi tempi tecnici per quanto riguarda la formulazione degli assegni. Questo comune ha bisogno una volta per sempre di regole. L'ufficio passi deve essere dotato di personale che possa regolarmente controllare gli accessi, ma soprattutto deve essere adeguato da personale con divisa.